ciao benvenuto nel canale youtube giorgio cerquetti grazie se ci sei grazie se ci sei spesso se è mattina buongiorno buona giornata che cos'è l'amnesia intanto una parola che viene dal greco a vuol dire non mnesis vuol dire memoria non memoria sono dei momenti in cui uno dimentica le cause sono il trauma lo stress le droghe l'alcol uno può dimenticare una volta sentivo dire quello beve per dimenticare cielo volutamente si ubriaca per non ricordare allora guardiamo la seconda sequenza che suggerisco io nascita vita morte rinascita allora tra una morte e una reincarnazione ci può essere un trauma una delle cause della perdita della memoria quindi dell'amnesia temporanea le amnesie sono sempre temporanea però possono durare anche cinque sei incarnazioni se uno misura il tempo in incarnazioni la morte può essere un trauma che fa perdere la memoria la nascita può essere un trauma i nove mesi di gravidanza possono essere traumatici nascere ricevere un nome giorgio cerquetti figlio fratello italiano può essere un trauma a scuola ci insegnano a leggere e scrivere ma non c'è un maestro che ti insegna ricordare le tue incarnazioni precedenti studiando le tendenze che magari sono diverse dalla famiglia quindi vengono da prima sono diverse dalla società vengono da prima sono diverse dall'ambiente dove vivi quindi vengono da prima l'educazione spirituale dovrebbe portare tutti gli spiriti incarnati a decifrare le tracce le memorie i flash i sogni le visioni che vengono dall'incarnazioni precedenti ma la maggior parte delle persone ha lo stesso problema che si chiama amnesia temporanea l'amnesia può andare dalla nascita alla morte però appare che molti in punto di morte hanno delle visioni di colpo una volta queste visioni venivano chiamate delirio allucinazione invece gli stai ad ascoltare i moribondi gli danno psicofarmaci non c'è assistenza quindi ti consiglio di curare con la meditazione con l'alimentazione vegetale con la respirazione consapevole la tua amnesia temporanea io non sono giorgio cerquetti cioè sono nel senso che per comodità si chiama youtube giorgio cerquetti comodità se vuoi scrivermi scrivermi qua giorgio cerquetti oramai una sigla un nome ma io non sono giorgio cerquetti perché io esistevo prima esisto adesso ed esisterò dopo e la mia memoria delle incarnazioni precedenti è cominciata a otto anni ho fatto dei video dove parlo di questo ne ho fatto uno che ti consiglio di vedere sul canale border nights dove faccio vedere 70 anni dopo torno ad ascolti piceno nelle marche dove vedevo guarda questo video dura un'ora quindi quando hai tempo te lo guardi ti do la segnalazione di questo video quindi ho cominciato a ricordare che cosa che mi ha tolto l'amnesia delle parole in sanscrito che sono state pronunciate da un'amica di mia nonna che già era particolare mia nonna che si chiamava Isid veniva da una famiglia di persone che credevano in una spiritualità più estesa di quella cristiana infatti l'han chiamata Iside Iside allora adesso stai guardando guarda meglio te stesso hai questo problema di perdita la memoria io dico temporanea perché eternamente non la perdi eternamente io sono eterno tu sei eterno uno dico usi la parola spirito sì allora sono esseri siamo io e te e tutti esseri viventi esseri viventi eterni e multidimensionali però a contatto col dna a contatto con gli altri esseri incarnati possiamo avere una perda temporanea amnesia della memoria ricordiamoci che in europa c'è stata una repressione religiosa prima religiosa poi culturali manicomi dove invece di curare le persone li torturavano le uccidevano le richiudevano perché magari avevano un ritorno di memoria dei flash dei lampi delle visioni io ho conosciuto persone che avendo ricordi delle vite precedenti sono messi a scrivere romanzi storie arricchendoli poi con episodi trame varie è molto importante curare questa ammenesia temporanea che ci fa vivere in uno stato di ansietà allora quando ti liberi dallo stato di ansietà quando puoi dire con calma io esistevo io esisto io continuerò ad esistere poi come dipende dalla tua volontà dalle tue capacità però ogni ogni spirito ha già le qualità e le risorse per vivere senza ansietà serenamente vivere questa esperienza umana nel modo migliore ed evitare amnesie perdite di memoria stavo per dire ricordate allora lo dico ciao ricordate ciao Grazie a tutti. Grazie a tutti.